Questa interpretazione di questo spazio dell'innovazione ci provoca a fare domande innovative, percorsi innovativi di per sé, anche il piano Montini o comunque il piano delle nuove chiese è stato condotto da Montini e dal Comitato per le nuove chiese di cui era Presidente Enrico Mattei proprio cercando idee nell'arte contemporanea, quindi vuol dire che alcune delle chiese che sono nate con Montini sono frutto esattamente di una ricerca in cui le arti figurative, l'architettura, l'acustica, l'ingegneria, insomma tutti hanno contribuito a dire non possiamo immaginare che la chiesa sia per forza sempre come Sant'Ambrogio che naturalmente è la miglior chiesa che si possa immaginare ma del Romanico che continua a parlare anche ad oggi però insomma sono state create chiese che rappresentano dei passi avanti nella storia dell'architettura religiosa proprio perché Montini e il suo comitato hanno lanciato queste idee. Qui abbiamo forse una innovazione più radicale e quindi credo che anche la richiesta di contributi è più radicale. Perché la chiesa sente il bisogno di un luogo di contatto che però potrebbe diventare anche confronto, forse anche scontro con la scienza e con l'innovazione? Ma io non credo che ci sia mai stato uno scontro tra la scienza e la fede. Credo che quando ci sono stati degli scontri è stato perché la fede è diventata ideologia e la scienza è diventata ideologia. Sono due ambiti della ricerca e della conoscenza che possono e devono essere come un reciproco modo di aprire orizzonti piuttosto che come una determinazione a porre steccati, a costruire barriere. Quindi la vera scienza sarebbe, credo, ottusa se ritenesse la religione un disturbo e la vera fede sarebbe ottusa se ritenesse la scienza un pericolo. Questa call che viene lanciata nell'Innovation Week da parte della Diocesi, che cos'è? È un grande invito aperto a 360 gradi alla partecipazione, una garbata richiesta d'aiuto. Abbiamo accolto con onore, oltre che con piacere, l'invito a immaginare una presenza religiosa qui in Mind, il luogo in cui si studia, si fa ricerca sull'uomo, sulla sua identità e allo stesso tempo si vuole creare un modello di Smart City, di città del futuro. E allora l'idea è accettare la sfida nel solco dei nostri predecessori. Seguiamo volentieri l'esempio del Cardinal Montini che diceva che la Chiesa deve imparare a crescere al ritmo della città che cresce, lo diceva nella Milano del dopoguerra, che cresceva in seguito al boom economico. E allo stesso tempo però siamo qui convinti che le risposte ci devono venire da tutti, perché lo Spirito suggerisce a tutti, quindi dal popolo di Dio, ma da tutti i popoli che abitano Milano. Per cui l'idea è immaginare una presenza che da un certo punto di vista ricalchi la tradizione. In Mind ci sono organizzazioni e costruzioni sociali che la Chiesa conosce bene, c'è un ospedale che ha bisogno di cappellani, un'università dove ci sono dei cappellani, dei luoghi di lavoro, anche lì abbiamo una pastorale del lavoro, ma allo stesso tempo c'è un insieme, un di più che va letto, con questa volontà di capire come sarà l'uomo del futuro, la città del futuro. Per questo motivo chiamiamo a raccolta tutti, chiamiamo a raccolta le religioni, perché quando si ragiona dell'uomo è giusto far vedere che le religioni rappresentano una dimensione essenziale dell'identità umana e quindi volentieri immaginiamo con loro una presenza stabile, significativa e visibile del dialogo tra le religioni, non solo già anche in vista della pace, ma in vista anche di una migliore comprensione di chi è la persona umana. Chiediamo aiuto per immaginare la presenza della Chiesa Cattolica, sicuramente immaginiamo un edificio, ma sarà da capire quali figure animeranno questo edificio, con quale tipo di azione pastorale. E infine chiediamo aiuto ai tanti campi del sapere per permettere quel dialogo che ci è stato chiesto tra grandi formi dell'innovazione e il pensiero classico che ha determinato il cammino dell'umanità fino adesso e che ha generato due saperi che sono fondamentali, che sono la filosofia e la teologia. Ecco, noi lanciamo questa cola aperta a 360 gradi, in un primo momento chiediamo una disponibilità e poi costruiremo tavoli di lavoro, così che effettivamente entro la fine di quest'anno, l'inizio dell'anno prossimo, la Chiesa Ambrosiana possa discutere col Comitato Strategico una presenza religiosa qui in Mind. Concretamente cosa può fare chi volesse, diciamo così, rendere pubblica una sua idea, contribuire? Leggere la call che contiene le istruzioni, accetteremo volentieri dei testi, delle presentazioni, delle animazioni video, dei progetti, tutto in formato elettronico, spediti a questo indirizzo colmind a chioccioladiocesi.milano.it, ma troverete tutto sul sito, perché il sito della diocesi informerà in un'apposita sezione, informerà, darà effettivamente il cammino che stiamo facendo passo dopo passo. Cosa significa questa call for ideas per Arexpo, per Mind e per il futuro di questa grande realtà che va crescendo? Come dicevo, Arexpo nella sua missione è mettere al centro alla fine le persone. Parliamo anche di ricerca scientifica focalizzata sulle life science e la salute, che ancora una volta ha a che fare con le persone, e la creazione di un quartiere che ponga al centro la qualità della vita, la sostenibilità, l'impatto sociale. E quindi il fatto che vi sia questa call for ideas, molto aperta, come dicevo, che vuole arrivare al dialogo, al dialogo anche che è basato sul pluralismo, sullo scambio di idee tra religioni e anche non religioni, a me pare molto apprezzabile. Mi pare un punto di partenza che possa dare un contributo, soprattutto a chi vivrà qui, e quindi cercare di dare un contributo alle inquietudini, come diceva prima Monsignore, alle incertezze che in questo momento, soprattutto i giovani, stanno vivendo. Ecco, lei ha detto, aprendo questa conferenza stampa, un momento importante, un momento anche di snodo, che segna l'avvio di un cammino ulteriore dei tanti sui quali si sta procedendo con Arexpo e con Mind. Sì, è un cammino proprio verso le sfide del futuro, in fondo, in profonda continuità con quello che era stata l'Expo, no? C'è un umanesimo, una riflessione sull'uomo per affrontare il futuro. Oggi abbiamo avuto da Monsignore Delpini e da questo lancio di questa iniziativa della Diocesi di Milano una sfida e un contributo, camminare insieme per cercare quali possono essere le vie più promettenti per trovare risposte. Grazie.